Ciao bambini, vi voglio raccontare la storia del Regno Quasi Perfetto. C'era una volta un Regno Quasi Perfetto, un piccolo e strano folletto che voleva a tutti i costi eliminare quel quasi e tutto perfezionare. Gli altri folletti erano alti quasi al punto giusto e tutto era di loro gusto. Lavoravano quasi tutti i giorni e passeggiavano solo nei dintorni. A scuola era quasi tutto facile, ma qualcosa restava difficile. Insomma, quasi quasi lì si poteva essere felici così. Ma il folletto perfettino mancava sempre quel pochino. Se le cose non sono belle completamente, non si può essere contenti veramente. Diceva tutti quelli che incontrava e si lamentava e brontolava. Comincerò dalle piccole cose, dalle spinne di tutte le rose. Ma una volta eliminate tutte, furono perfette e le raccolse tutte. Non ne restò neanche una per inebriare il profumo la luna. Il folletto pensò allora di lasciar stare la natura, che forse sa meglio di lui la perfezione pura. Aiuterò le persone a eliminare ogni difetto, si disse il mattino dopo mentre ancora letto. Si alzò di fretta e cominciò la sua missione. Ad ognuno un consiglio di perfezione. Il chiacchierone stava più zitto. Lo smemorato aveva tutto scritto. Il timido divenne esuberante e ne disse davvero tante. Il sognatore scese dalle nuvole. Lo scontroso divenne socievole. La sedera giungeva piano. E il folletto si sentiva strano. Tutti impegnati a diventare perfetti. Avevano pensato solo a se stessi. Non era proprio come lo avevano immaginato. Ma che mondo aveva creato? Quando incontrò il bugiardo del paese. Che cosa pensi di questa perfezione? Gli chiese. Mi ha consigliato di eliminare il mio difetto. Perché il vero deve essere sempre detto. Ora vorresti che ti dicessi che hai ragione. A cercare in ogni cosa la perfezione. Ma la verità non è questa. Preferisco un mondo quasi perfetto. In cui ognuno si sente amato lo stesso. Nonostante i propri difetti. Purché tutti si rispetti. Spero vi sia piaciuta. Ciao. Un bacione.